Buongiorno a tutti, ben ritrovati con questo secondo appuntamento dell'ultima settimana di Wave. È collegato con noi da Siviglia l'architetto Vasquez Consuegra. Vasquez Consuegra in realtà è un architetto molto noto, non avrebbe bisogno di presentazione, però per i più giovani ricordo che è stato professore all'Università di Siviglia dall'80 al 1987 ed è stato anche visiting professor in diverse università di architettura prestigiose in giro per il mondo, tra cui l'Università di Architettura Urbanistica di Buenos Aires, l'Ecole Polytechnique Federal di Lisbona e anche allo UOV dal 2006 al 2007 e poi nel 2013 proprio con Wave, dove per la prima volta appunto l'ho incrociato, l'ho conosciuto. La sua opera è comunque caratterizzata da un'intensa attività progettuale per la quale ha ricevuto numerosi premi e menzioni, tra cui ricordo nel 2016 la medaglia d'oro dell'architettura spagnola. Sono lieta di lasciare la parola all'architetto professore Vasquez Consuegra. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi piacerebbe scusarmi per il mio italiano o per questa imitazione che faccio per l'italiano. In questa conferenza voglio mostrarvi due progetti, due progetti che rispondono a un solo programma e che per circostanze diverse, che vediamo in seguito, non si è costruito nel primo sito dove c'era previsto e si è costruito in un altro e probabilmente a priori meno interessante. Si tratta del centro culturale promosso dalla banca catalana La Caixa, il centro culturale Caixa Forum, che La Caixa ha costruito alcuni importanti in Madrid, Barcellona, Saragossa, eccetera, e questo è il centro culturale di Sevilla. In questa conferenza aprirò due parentesi per mostrare molto velocesamente alcuni altri progetti che vanno a rafforzare i concepti che entrambi i progetti comportano. Questi due progetti vogliono mettere in evidenza l'importanza del pubblico, la rilevanza dell'espazio pubblico. Nella mia traiettoria ha prevalso sempre il valore del pubblico, di quegli luoghi dove la società può prendere consienza di quello che è, dei luoghi per pensare, capaci di stimolare l'immaginazione, l'invenzione, i sogni dei cittadini. Ho la profonda conviczione di che il futuro della nostra città, e ancora in più dopo questi tempi di pandemia, penso che il futuro della città risiede nell'espazio pubblico, e questi espazzi e collettivi che sono capaci di costruire città più coesive, più democratiche, più libere. Purtroppo questi espazzi e collettivi stanno diventando espazzi di consumo e hanno perso già il suo carattere civico. Ma ho sempre interessato, diciamo, l'architettura civica con una forte implicazione urbana. e l'idea che comparto è che è più importante la città, forse la creazione collettiva più bella dell'umanità, che l'architettura è intesa come oggetti isolati. Parliamo, per lo tanto, della dimensione urbana dell'architettura, della qualità urbana dell'architettonico, del costruito. Questo è un tema che, in alcuna maniera, in alcuna forma, percorre il transito quasi di forma eccessiva per tutti i miei progetti. Vado a cominciare con il primo progetto delle due, perché si tratta, portanto, del stesso programma, il programma del Centro Cultural Cation Forum, che, in un principio, l'abbiamo disegnato per la satarazana, la satarazana è la parola spagnola, per l'arsenale, il vecchio arsenale della città di Sevilla, e dopo, per una serie di circostanze, che vedremo più avanti, non è stato costruito in questo spazio, ma è stato costruito fuori, fuori anche, del centro storico, al di là del fiume. L'arsenale è una costruzione del 1200, esattamente alcuni anni dopo la conquista della Sevilla musulmana, per parte dei regni cristiani, e alcuni anni dopo la conquista ha costruito questo enorme e grandioso edificio dell'arsenale, addossato a noi in questo spazio fantastico, chiamato l'Area 1000, tra le mure arabe della città, portanto l'arsenale viene addossato alle mure arabe e il fiume, in questo magnifico spazio. Qui queste immagini mostrano come questo spazio enorme ha cambiato di fasciate continuamente e anche le usse, perché solo ha funzionato come arsenale durante i due primi secoli, dopo ha diventato un spazio con questi diversi. Si tratta di questi spazi che viene con formato di 17 navati addossati alla mura arabe. in rosso corrisponde all'area del nostro progetto. di 17 navati che ovviamente durante durante tutti i secoli cambiando di uso, per esempio siamo nel Cinquecento, qui ancora funziona come, probabilmente, come magazzini portuali hanno già lasciato di funzionare come fabbrica di navi, di barche, in De Galea, e per esempio nel 1725 vediamo come la parte centrale viene occupata di un magnifico edificio che è l'ospedale della Carità, bellissimo edificio che suppone la sovrapposizione di due strutture, la struttura marroca, mosturiana, molto delicata e sovrapposta alla parcheria medievale dell'arsenale. a Vestra la Dogana che è un edificio bellissimo e che è stato distruito alcuni anni dopo per convertirlo in un edificio contemporaneo con scasso interesse dal punto di vista architettonico. portanto, a partire del 40-45 abbiamo la parte nostra, la parte dove noi dobbiamo attuare che viene, diciamo, convertita in una fabbrica di artiglia LIA che però è una fabbrica di pieze leggere, pieze leggere perché scegliamo una fabbrica di artiglieri nazionale in Sevilla, un altro posto, un altro sito e qui si è basicamente un spazio, diciamo, di lavoro, chiaramente però anche dispositivo di materiale prodotto dell'artiglieria, si mantiene l'ospedale della Carità e il nuovo edificio costruito a partire di quest'anno, il 45. qui a sinistra possiamo vedere la facciata del nuovo corpo di testa che costruisce la fabbrica di artiglieria, artiglieria costruisce con la volontà di costruire una nuova facciata di queste insieme alla città, al fiume, soprattutto al centro, la capella dell'ospedale della Carità. Sette navate, per esempio, sette navate che conformano, portanto, queste corpi. Alcuni anni fa si è fatto un concorso nazionale che ha avuto la fortuna di vincere per fare questo progetto di conversione dell'arsenale nel centro culturale Casha Forum. Senza dubbio, l'espazio interno dell'arsenale è senza dubbio, diciamo, l'espazio forse più imponente della nostra città. Non esiste dopo la cattedrale un espazio così più impressionante che questo del vecchio arsenale. I successivi estratti che si hanno accumulato in questi siti durante secoli, per basicamente 500-600, a mio avviso almeno, non togliono nulla la memorabile percezione di questo spazio incommensurabile, unico, perché hanno sepportato, hanno sepporto le basse delle archi, 5 metri. E per me questo non significa, diciamo, un problema, ma in ogni caso, diciamo, è un tema che aggiunge la singularità a queste arsenale. Queste, vediamo alcune operazioni che si hanno fatto durante l'occupazione dell'edificio per la fabbrica d'artiglieria, dove possiamo vedere come questi archi, robusti archi, sostengono pesante volte, però allo stesso tempo, leggere coperture, detti, della viera metallica e del vetro. Quindi, disegnando così, diciamo, un spazio pautato per questa sequenza interna dell'ombra e luce, che è molto affascinante. La, diciamo che questa continuità dell'espazio piano terra, di una parte e di un'altra, la coincidenza della sua quota, suo livello, con il livello della strada, diciamo, che spiegherà qual deve essere, diciamo, il rapporto del monumento con la nostra città. E' lì dove, a mio avviso, presiede il maggiore potenziale dell'edificio. Si trova la posizione privilegiata, si trova a metà del cammino tra il fiume e l'insieme monumentale della cattedrale e l'Alcazar. La strada d'Ordemaio è una strada che collega il fiume con il centro storico, insieme al complesso monumentale della nostra città, attraverso la piccola porta aperta nella mura arabe, la porta di L'Oleo, lasciando a destra l'ultima navata dell'arsenale. La soberba, in un'altra parte imprevista e inaspettata presenza della cattedrale e la giralda dalla copertura dell'edificio, evidentemente introdusse, in questo caso, un nuovo plus a sommare alla cattedrale elettronica del nostro monumento e si convertirà, a partire di questo momento, in uno del materiale più importante del progetto. A partire del 1700-1800 hanno cominciato a costruire nella coda superiore alcuni magazzini per la fabbrica d'artiglieria che oggi si trovano in una situazione di degrado interiore quasi rovina imminente. Vediamo qui come ci sono anche dei buchi, perché è sparito il solaio, con incendio, eccetera, in diverse circostanze, di maniera che oggi la costruzione sopra presenta questo aspetto. Quasi in rovina. La pianoterra, vediamo che durante secoli l'area che è stata più trasformata è quella che corrisponde al corpo di testa dell'edificio, con la parte destra dell'immagine, e dopo nel corpo superiore vanno a apparire queste tre navate longitudinale e due trasversale. Questi sono gli spazi disponibili dell'edificio per la riabilitazione e la costruzione, portanto, del nuovo centro cultural. in cacciaform. Questa è la, penso, la sezione trasversale dove si può vedere chiaramente questa alternanza tra luce e ombra e la costruzione sopra di queste tre navate che non hanno, diciamo, un gran interno dal punto di vista archilectonico. La nostra proposta, la nostra proposta si situa, diciamo, all'intersezione dei due, o alla confluenza dei due impulsi. Uno è il trascorrere il tempo, secondo è l'affare con la relazione tra il monumento e la città. Entrano in questione, ovviamente, si collegano e probabilmente, forse, si spiegano a se stesse. Il trascorrere il tempo è un fenomeno irripetibile e irrecuperabile. In Sevilla, tante città allo stesso tempo, però, io penso che in Sevilla raggiunge categorie di paradigma, il monumento non è un testimonio di un'epoca, è il testimonio di varie epoche, di vari, a vari, molti tempi, è il testimonio di tutta l'istoria, non ha un solo tempo. E, portanto, possiamo dire che in questa maniera di costruirsi una piattaforma nel tempo, identificando il suo tempo di costruzione, diciamo, con la propria evoluzione della città, è implicito il fatto di riconoscere come un valore singolare, diciamo, la sui strati dei valori che si hanno accumulato lungo il tempo. D'un'altra parte, diciamo che il monumento non è un artefatto isolato, un artefatto archeologico, introverso, che si riflessa a se stesso. Al contrario, è un elemento molto importante, e forma parte della composizione del territorio urbano, dell'istoria urbana della città. E' precisamente questa relazione di convivenza tra la città e il monumento, l'edificio singolare, è precisamente una delle caratteristiche più importanti della nostra maniera, diciamo, di costruire la città lungo l'istoria, lungo il tempo. Quella relazione di convivenza, di forte convivenza, di sovrapposizione, di giusta posizione, anche di promiscuità tra la città e il monumento. Queste sono, diciamo, due questioni che stanno, in alcuna maniera, dietro il nostro progetto. In questi tempi attuali, in questi tempi attuali, dove si sta producendo, si sta producendo una implacabile sottrazione del spazio pubblico mediante la mercantilizzazione, la privatizzazione o l'uso inadeguato di questi spazi, pensiamo che questo progetto di Casha Forum potrebbe essere un'opportunità per offrire alla città uno dei spazi più qualificati della città. un spazio aperto alla città, dove la città può penetrare dentro di questo spazio, di maniera che il spazio ha la vocazione di un spazio di incontro di tutti i cittadini intorno al mondo dell'arte, la cultura e la conoscenza. Un spazio per la interazione sociale e la riconoscenza culturale. Questa volontà di offrire diciamo un spazio pubblico alla città, detto in un'altra forma, questa volontà di approfittare l'occasione o con ogni progetto di avere la possibilità di offrire un luogo alla città. Questo è un tema che a qui mi piacerebbe aprire una parentesi per mostrare alcuni progetti già costruiti che ho realizzato alcuni anni fa dove già in alcuna maniera sta presente questo concetto. Per esempio con la reazione costruita a Sevilla per la come parlare per la seczione universale del 1922 questo è un padiglion che si costruisce diciamo a partire dalla seczione scorrendo la seczione è una seczione che suma alcune vuote che vanno a finire per conformare l'espazio interno dell'edificio e l'edificio viene conformato di due grandi elementi due grandi pieghe il padiglione propriamente stesso è un edificio un piccolo edificio di servizi caffetteria ristorante eccetera tra le due tra questi due elementi appare questa piazza coperta un espazio di attrezza un espazio diciamo che è pubblico appartiene alla città però all' stesso tempo appartiene all'edificio a paviglione questo è un espazio che diventa una ventana una porta una porta diciamo dalla piazza che sta dietro l'edificio che è la piazza scoperta è una porta aperta alla città alle barche al molo si tratta diciamo di una piazza gradinata con una piazza in rampa gradinate molto dolce e che permette questo diciamo rapporto diretto tra la città e il fiume tramite il proprio edificio in Cartagena Cartagena continuando i passi di esperienza negli Stati Uniti anche ovviamente in Europa e anche in Spagna io ho avuto la possibilità anche di intervenire nella città del Vigo di colonizzare questi territori un territorio sempre privilegiato dove va al bordo del mare occupato prima in porto e che oggi forma parte diciamo non è mai centralità della città e sono territori privilegiati dove la città finisce e comincia al mondo e questi territori abbiamo costruito il museo di archeologia subacquea che è un museo nazionale è un museo che emerge a superficie con due corpi due elementi uno che si tratta dell'edificio di ricerca contatto di un museo nazionale e un'altra parte dell'altro elemento è il lucernario del museo che l'abbiamo situato l'abbiamo messo sotto terra perché pensiamo che questa condizione dell'edificio di essere del museo archeologia subacquea sembra interessante che il visitatore del museo penetrara aventrandosi nell'interior della terra tramite una rampa che vediamo in alcune altre immagini come si vede in questa immagine e in allusione diciamo a questo mondo sommerso mondo sotterraneo procedenza del patrimonio sommerso nel piano meno uno la sala di esposizione temporale si estende là fuori del recinto proprio recinto del museo cercando questo rapporto con il mare gestendo questa relazione e dando così ragione di essere della sua presenza al lato del Mediterraneo la roba che mi interessa il tema che mi interessa destacare e mettere l'accento in questi progetti oggi è precisamente l'espazio pubblico che viene conformato tra le due costruzioni centro di ricerca anche lucernario che contiene anche la caffetteria sono questi spazi di intermediazione di articolazione è un spazio pubblico che viene la continuazione del waterfront però all'estesso tempo è l'antessana del museo è la hall del museo dove si situa la rampa di accesso al proprio museo sono questi spazi di cittadinanza di sociabilità sacrilaici l'hanno denominato alcuni critici dell'architettura riferendosi a questo progetto mi piacerebbe chiamarle spazi della mediterranità spazi persi della mediterranità che penso che al di là dei linguaggi dei stili dobbiamo recuperare per l'architettura contemporanea un altro progetto che parla di questa stessa questione è un progetto che abbiamo fatto quest'anno durante il confinamento e non abbiamo avuto fortuna che il museo archeologia di Cantabria è un infigio amministrativo che appartiene alla comunità di Cantabria si trattava portanto di un potrebbe essere un edificio unico situato quasi al bordo del mare e davanti di un spazio bellissimo di un spazio di un giardino di una scuola di scolapi che è un giardino bellissimo questa parte della città e soprattutto è una in un area in un sitio in un lotto che era con una diciamo topografia molto molto difficile perché aveva differenza tra la città alta e la città bassa da meno 5-6 metri e questo progetto pretende risolvere non solo il programma ma anche risolvere questo conflitto della città e la connexione della parte alta della città con la parte bassa guardando sempre questa idea di guardare verso il mare noi che cosa abbiamo fatto abbiamo a sinistra possiamo vedere il volume edificabile più alto la parte che corrisponde all'edificio dell'intorno più alto più basso più basso e noi il nostro progetto cosa ha fatto ha fragmentato in due il programma per aprire un spazio pubblico tra le due edifici un spazio pubblico che vendrà coperto a capanna a capanna come le altre due edifici in questo caso a capanna di vetro per mettere la realizzazione di tante attività che possono darsi in questi spazi qui vediamo le due edifici come c'è una grande gradinate che permette precisamente questa connexione tra la quota superiore della città e la quota bassa e questo spazio che appartiene evidentemente al museo ma all'estesso tempo si conviene in un spazio pubblico con questa gradinata che permetterà la realizzazione di quante attività possono essere previste un altro progetto questo è un concorso che abbiamo fatto per Bari che era un progetto molto molto complesso molto grande però basicamente si trattava di risolvere il problema della connexione tra le due parti della città la ferrovia il fascio ferroviario è un limite un limite anche è una cessura tra la città storica città napoleonica sopra e la città dell'industria e la spiegolazione del ventesimo secolo il concorso che trattava tanti temi come possiamo vedere qui però soprattutto il tema che mi interessa distaccare oggi è precisamente questo di come se può come un'infrastruttura di connexione può divenire un'espazio pubblico portanto questa è l'idea l'idea di introdurre diciamo un elemento un espazio pubblico coprire il fascio ferroviario e mediante con la dimensione massima che potrebbe essere per ragioni di sicurità 40 metri tra le due parti della città un manto verde un spazio verde un manto verde di 10 hectare che coprirà tetti rampe passarelle eccetera garantendo da una parte la connexione tra le due parti della città e all'estesso tempo contenendo i servizi collettivi che vengano demandato del concorso questo è un altro progetto che abbiamo concorso che abbiamo fatto un anno fa per Ginevra intorno diciamo alla stazione centrale con la stazione centrale oggi è un spazio più o meno il cuore della città però è un spazio molto molto articulato pieno di una situazione caotica in tutti i sensi approfittando la estensione per il 2025 della estazione in questo caso sotterranea la prima estensione hanno stato sempre a livello diciamo delle superficie perché il treno trascorre sopra la copertura e in questo caso si trattava di un concorso che voleva risolvere il problema e come risolvere tutto il problema di accessi adesso agli nuovi binari sotterranei e in un'altra parte dare una nuova identità a questo polo di sviluppo urbano di Connava portanto dotare di una nuova identità e cercare di produrre nuovi espanzi pubblici per la città fare anche cercando la premiabilità cercare diciamo una unificazione di tutto l'intervento mediante un suolo diciamo un pavimento continuo tanto nella parte davanti della stazione che dove costruimo un spazio pubblico metà minerale metà verde intorno alla chiesa di Notre Dame e dopo indietro la facciata nord della stazione e dove io penso che il progetto adquiere prende diciamo il suo massimo interesse e l'area indietro si chiama Montbrilla o Place de Montbrilla in definitiva si tratta di una strada molto molto trafficata e l'idea portanto è di convertire anche in un grande spazio pubblico la parte indietro questa parte indietro che stiamo cercando di costruire una nuova facciata alla stazione perché la stazione ha la sua facciata principale alla Plaza de Connavant però dato diciamo questa estensione di binari che si hanno fatto negli anni ultimi anni non c'è una fasciata portanto noi che cosa proponiamo non fare solo una fasciata ma offrire alla città un nuovo spazio pubblico un spazio di articolazione di connexione di intermediazione tra la stazione e la città è un spazio che deve e questo è in giallo che è un spazio che si espande in due estremi costruendo anche due piccole piaxe che di alcuna maniera devo dire che dal punto di vista che mi interessa mettere in evidenza la contraddizione di oggi la la plaza di connexione che è un spazio che è un po' lontano un intervento lontano domestico e vuole rispondere diciamo al suo carattere rituale simbolico come in questo caso una entrata alla città una porta d'entrata alla città portanto un spazio di benvenuto e di congenza però e qui soprattutto la fasciata nord abbiamo costruito questo portico questa galleria coperta che contiene tutti gli alimenti che 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 emergeno dall'interno scale gli ascensori eccetera eccetera e allo stesso tempo stanno costruendo queste diciamo spazio qui si vede chiaramente che no non c'è come non c'è una facciata nord e abbiamo questa espansione in uno degli estremi di questo grande portico parliamo portanto di un'architettura che si allontana dai selezionismi retorici cercando di approssimarsi a questa diciamo architettura mesurata sensata architettura diciamo della necessità o che risponda alla singolarità e alla specificità del luogo però allo stesso tempo alla necessità delle persone e della società ritorniamo portanto al nostro progetto dell'arsenale e per dire che questo progetto probabilmente sia il paradigma di tutto questo veniamo parlando perché qui come no abbiamo potuto diciamo offrire un nuovo spazio pubblico alla città e il proprio edificio che diventa spazio pubblico piano terra si convierte portanto in un nuovo spazio pubblico per la città un'agora culturale un'espazio diciamo di interazione sociale con la spazio incorporare un nuovo ciclo di vita della città e solo in questo piano terra abbiamo costruito quelli usi che sono assolutamente indispensabili costruirlo in questa come per esempio non so la holla la la logistica eccetera le due facciate la facciata attuale chiusa la facciata diciamo corta facciata che dove no basicamente la lasciamo come è però soprattutto l'operazione importante è precisamente in questa strada d'Ordemaglio dove apriamo questo spazio alla città l'aula è il lucro profittando precisamente questo buco che assisteva prodotto della demolizione fatta per un incendio accidente e incidente abbiamo messo lì il corpo diciamo di scala e censori che permette percorrere tutti i differenti livelli dell'editizio una lunga lenta rampa e permette connettare piano terra con la hall del proprio centro culturale che ha cia forum è stata lunga lenta perché mi interessa distanziare il contatto rimandare l'incontro tra i due mondi il mondo medievale piano terra e il mondo contemporaneo che viene che si disprende diciamo dei contenuti del cia forum il corpo di testa c'è la grande sala di esposizione il programma del centro culturale cia forum è un programma molto semplice due sale io stesso programma per tutti cia forum in Spagna due sala di mostra di esposizione un auditorio medio 400 persone atelier tagliere diciamo culturale polivalente caffetteria e un'area di amministrazione punto qui è la precisamente questa sala grande che era una sala di mostra tagliata della fabbrica d'artiglia via dove noi l'unica cosa che facciamo è eliminare le due bande extreme nel corpo superiore per poter percepire diciamo tutto l'espasio in una maniera integrale qui 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 le tre corpi superiore le tre navate dove abbiamo messo caffetteria tagliere culturale tagliere polivalente atelier polivalente in un'altra sala di mostra disposizione è un intervento che è stato fatto dal rispetto e dalla valorizzazione integrale dell'edificio costruito cercando di sistemare il programma nelle spazi disponibili meno interi architettonico dell'edificio e riqualificando quegli altri che non hanno un valore storico costruttivo o architettonico cercando di fare diciamo una riabilitazione la prima volta integrale dell'edificio quelle sono la posizione del nuovo auditorio soprattutto alcune delle nave costruite nel corpo superiore elemento di connexione tra le tre navate nel corpo superiore adesso diciamo aperti a questa visione questa perspectiva della cattedrale della giralda la seconda sala di esposizione la caffetteria che adesso è in una posizione bellissima guardando sempre l'insieme monumentale e nel vuoto della hall dove situano diciamo il corpo principale del ascensore di scale che conduce la parte superiore all'auditorio che si trova in una posizione perpendicolare alle navate della stessa maniera che nell'ottocento si situava la fabbrica al corpo di testa della fabbrica partiglieria sotto un cauto movimento di coperture con la volontà di passare in avvertite nella configurazione finale dell'edificio intervenuto finalmente non si tratta portanto di una preservazione o una preservazione ma anche di una reinvenzione dell'antico con un riutilizzo contemporaneo e un atteggiamento che si allontana di queste diciamo fondamentalismo conservazionista che fossilizzerebbe la storia ancorandola in un solo momento e non permettendo l'incorporazione di nuovi valori architectonici che è come che è successo sempre perché è il processo storico perché l'architettura ha vissuto e si è sviluppato sempre così attraverso incroci scambi meticciati la tradizione deve essere conservata senza dubbio però deve essere revitalizzata fecondata fertilizzata per questi scambi di cultura almeno è così come io lo vedo però non l'ha visto così diciamo un municipio di comune che ha dato il permesso di costruzione e dopo un anno un anno di attesa un anno di attesa per parte della Caixa senza avere una risposta ha deciso diciamo cambiare di ubicazione e ragione basicamente erano due una era che no il progetto non scavava portanto loro hanno pensato che il scavo era necessario recuperare la quota primitiva per loro era indispensabile e d'un'altra parte loro non hanno accettato diciamo questa coesistenza convivenza tra l'architettura esistente e l'architettura contemporanea portanto dopo un anno di attesa la Caixa ha deciso cambiare di lotto di spazio di area di progetto e abbiamo passato portanto di un edificio splendido situato nel centro istituto della città a un altro luogo fuori del centro istituto in un nuovo spazio che perteneva alla Expo 92 al di là del fiume dove si stava costruendo in questo momento diciamo un gran centro di uffici e commerciali un insieme di una parcela allungata come questa dove c'era un parcheggio hanno costruito un parcheggio di 4.000 posti due edifici commerciali 50.000 metri quadri edificio che loro hanno chiamato edifici podium e una torre di 40 piani una torre edifici di 40 piani tra le due edifici edifici podium c'era questi spazi un spazio che un spazio all'aperto dove si avrebbe probabilmente costruito una piazza e che era il punto di accesso al parcheggio portanto questi erano alcuni degli spazi previsti per il parcheggio dove c'era già una struttura esistente era questa con un modulo di 8 per 8 metri e dove evidentemente la presenza della struttura ha condizionato la distribuzione dei usi e al stesso tempo la organizzazione spaziale del programma sono due ci sono sempre due questioni quando si lavora in un edificio esistente uno è quale la strategia di occupazione per un uso che non stava previsto che non era una struttura che non c'era la struttura prevista con questo uso e la seconda è la visibilità la necessità di visibilità perché stiamo costruendo un centro culturale in un spazio semiterrato portanto come rispondiamo alla prima premessa con la costruzione con la costruzione di recinti quasi autonomi che convivono con la struttura esistente però senza subordinarsi a questa struttura qui sono i recinti quasi autonomi che non arrivano neanche al tetto dove possono vedersi le due salade di mostra sopra auditorio atelier culturale polivalente zona di amministrazione in giallo e la caffetteria portanto la concatenazione di questi spazi marcano diciamo il percorso dei visitatori del centro culturale questi magli non si vede tanto però la sovrapposizione tra la nuova struttura che abbiamo messo e la struttura esistente evidentemente è stato un lavoro molto difficile abbiamo dovuto demolire pezzi di sola e rafforzare pilastri travi eccetera la luce che è la base della costruzione in questo caso è un progetto che assume la subterranità assume la come premessa del progetto un argomento del progetto la luce che interessa è una luce debole una luce feltrata è una luce che che si filtra tra del lucernario e che intensifica la sua potenza man mano che continua il percorso diciamo di visitatore fino ad arrivare alla parte sopra viene la luce filtrata dalla dalla piazza e l'altro punto è la l'altro punto questi della necessità di visibilità e l'edificio risponde con questa di questa maniera va un po' veloce perché vedo che è un po' tardi però ci deve mostrare qui abbiamo evidentemente tutti abbiamo in mente la piramide del luvre per esempio un elemento che deve chiudere che deve coprire l'accesso le scale gli ascensori e anche portando un vicernario al vestibolo dell'aula che per un'altra parte deve convivere anche con le alberi che sono già noi abbiamo qui un'altra volta che questa scelta deve non fare un elemento architettonico una pièce architettonica un oggetto ma costruire una costruire una pensilina una piccola piazza coperta che può convivere con naturalità con naturalità con le alberi esistenti nella piazza questo appartiene a un gruppo che io vado solo a mostrare immagini perché ho visto che siamo un po' tardi che appartiene a un gruppo di progetto che esplora l'utilizzo della geometria curvilinea per raggiungere oggettivi diversi questa è la città del flamenco a Gere della Frontera un progetto che io penso che per la sua dimensione ha già la possibilità di costruire città di costruirsi in una parcela in un lotto molto difficile anche con una diciamo topografia dove è molto complicata qui si vede come emerge con due 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 corpi e dopo c'è una piattaforma che si appogia su questi due corpi due portanto estratti sovrapposti e in questa sezione soprattutto che mi interessa vedere come in questa sezione come la città come questa maniera di collegare strade diverse e proporre nuovi espazzi pubblici per la città dove la città penetra all'interno dell'edificio e proponendo espazzi come l'edificio si può estendere fuori del proprio edificio proponendo espazzi pubblici per la città o il complesso museale in Medina un progetto che abbiamo avuto la fortuna di vincere però piuttosto purtroppo non è stato costruito che è il progetto del museo di Momento e della Medina la città santa di Medina questo era un progetto in definitiva erano tre museo però non è l'idea diciamo in alcuna maniera l'idea dell'intersezione dei cerchi c'è o sta alla base del nostro progetto e come partendo da elementi minimi semplici attraverso di processi combinatori e processi moltiplicativi possono arrivare a simmetria e molto complesse qui era molto importante che questi tre musei perché era il museo della battaglia di Uhud la battaglia di Uhud che vivra Mahometto con i suoi musulmani contro la città della Mecca precisamente nella città di Medina al bordo di queste montagne di Uhud dopo il secondo era la città di Medina e il terzo museo era il museo dedicato a Mahometto e ho pensato che erano tre tema così uniti che erano assurdo di farlo separati per lo tanto abbiamo fatto un spazio unico un spazio un rampa che permette questa struttura intrecciata di che vogliono costruire tutto l'edificio la piazza di Trata che è la olle del museo per lo stesso tempo un spazio di sosta e che anticipa diciamo la intracciata atmosferale dell'espazio interno del museo il principio che genera la costruzione dell'espazio emerge e condiziona o determina d'alguna maniera la forma strutturale della cobertura da maniera che in questo caso ha luce e struttura e architettura coincidono un spazio radiante luminoso che io creo assolutamente contemporaneo però all'estesso tempo erede della tradizione e la memoria appartiene a Medina però il suo valore universale nella conviczione che solo l'architettura che affonda la sua radice nella tradizione può avere diciamo raggiungere valori di universalità ritorniamo finalmente a questo progetto di Casha Forum che con queste sì abbiamo avuto già la fortuna di poter costruirlo e questa pensilina questo elemento di entrata che è nuovo è un elemento una piazza una piccola piazza pubblica che permette diciamo coprire il sistema di accessi allo stesso tempo garantendo i flussi dei cittadini che passano di un edificio o l'altro di due edifici podi e viene rivestito di questi materiali di schiuma d'alluminio è un materiale che è molto bello perché permette diciamo cambiare ogni momento del giorno con la luce facendo diciamo una facciata molto molto dinamica al fondo appare la caffetteria l'area della caffetteria che emerge sotto uno di questi corpi costruiti che erano corpi podim qui vediamo come le volte in alcuna maniera evoccano questi espaggi esparsi esparsi sotterranei esparsi o tunnele eccetera se vede no abbiamo molto tempo per se possiamo vedere qui la la trama la trama dei pilastri 8x8 che vanno marcando tutto tutto l'intervento corpo sopra dove c'è la pensilina questa piccola piazza coperta e allo stesso tempo la caffetteria e l'administrazione la luce naturale si filtra attraverso della schiuma di alluminio trasfigurando i raggi del sole in vibrazione sul pavimento e sulle pareti anche la luce diventa materia questa pensilina contiene portanto anche lucernario che va a portare luce all'interno della pole questo è un espazio molto dinamico debuto diciamo alla mutabilità al movimento diciamo agli effetti di raggi del sole sul pavimento e sulle pareti la scelta del materiale in alcuna maniera è una cia che contribuye a costruire questa atmosfera sotterranea a me mi interessa questa architettura capace di generare emozioni di ricordi memorabili e questa questa e questo si raggiunge si ottiene attraverso l'esperienza forte un'esperienza forte che viene probabilmente della mano a volte dell'espazio della qualità dell'espazio proporzione so la scala dimensione dell'espazio però a volte viene della mano di materiali io penso che pochi materiali pochi materiali rafforzano questa esperienza io penso che la la varietà indebolisce l'esperienza in questo caso limitare significa rafforzare l'abbondanza è sterile diceva Malarmé e quando si lavora quando un architetto lavora con limitazione si presentano occasioni che non si presenterebbero quando si lavora con assoluta libertà però costrizione le limitazioni possono essere abbastanza estimulanti perché possono aprire nuovi cammini nuovi senderi di pensiero le limitazioni le limitazioni devono convertire in un trampolino di opportunità per il nuovo progetto questo è un'espansio di transizione tra il hall illuminato dal del illusionario e il secondo hall che viene illuminato da questa fontana o questa fonte di questa luce che viene filtrata del brisoleil già della piazza che illumina questo è un'espansio di triple altezza dove la scala si appoglie su si estesa mesurando l'espansio che la accoglie qui possiamo parlare di materiali per esempio della qualità del material della qualità expressiva dei materiali evidentemente come metterli in contatto di maniera che questo contatto non significa una perdita diciamo di potenza espersiva al contrario in questo caso per esempio vediamo come il vetro arricchisce l'esperienza arida del cemento armato diciamo il cemento armato è più cemento armato in presenza del vetro alcune immagini della caffetteria restaurante e per concludere possiamo forse sintetizzare l'idea del progetto nella sovrapposizione dei due mondi un mondo interno mondo che opera per sostrazione e che viene risolto con una architettura occlediana cartesiana un'architettura della permanenza e il mondo esterno che è il mondo che si deve alle contingenze all'accidente alla vincola limitazione alla volontà di una epoca alla sensibilità contemporanea sono portanto due mondi che vengono collegati per un canale delusce naturale grazie grazie mille per la vostra attenzione ciao 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 rieccoci grazie grazie a te grazie è stato molto molto interessante guardando i progetti credo che ci sono tanti argomenti potremmo stare ore a discutere però allora io intanto comunico agli studenti che se hanno delle domande possono scrivere sulla chat e mentre aspettiamo se magari c'è qualche curiosità io ti provo a farti due domande che sono due curiosità mie ma una è un po' così semplice volevo chiederti visto che insomma tu hai lavorato in Spagna a Bari e anche in Arabia Saudita se in qualche modo ti senti architetto di una nuova mediterraneità contemporanea se ti senti un architetto del mediterraneo a me invece è un bellissimo titolo sì sì perché io ho lavorato io vivo in lavoro a Sevilla una città dove evidentemente buona parte del mio lavoro è stato sempre proceduto fuori da nostra città però è tentato sempre di cercare di portare il valore del sul alle altri progetti fuori di nostra città della stessa maniera che ho cercato di incorporare le altre valore altre situazioni all'architettura fatta nella nostra città queste io sì ci sono evidentemente oggi ho voluto parlare di questo tema dell'espazio pubblico che è un tema che mi interessa perché è il mio territorio diciamo possiamo dire il territorio scrittore hanno territorio letterario hanno un mondo dove lavorano tutti i libri sono sempre un po' riferito a questo universo nel mio caso possiamo dire che il territorio che mi ha piaciuto muovermi sempre è stato questo di lavorare esplorando i limiti la frontiera l'architettura di frontiera dentro fuori interno esterno privato pubblico architettura e città la dissoluzione dei limiti tra questa costruzione e questo quando ho potuto farlo diciamo l'ho fatto sempre evidentemente ho lavorato sempre in Italia adesso abbiamo queste concorse che abbiamo pinto l'anno scorso del Museo del Mare Trieste che dove però in questo caso è un intervento sul costruito un po' lo stesso progetto diciamo di nazionale e ho avuto possibilità diciamo di lavorare all'esterno costruendo questa diciamo definizione di limiti questa diciamo in alcuna maniera la forma che mi piacerebbe o l'idea che mi piacerebbe in alcuna maniera di essere presente in tutti i miei progetti sì grazie mi ricollego infatti alla seconda domanda nel frattempo ti comunico che dal pubblico scrivono grazie infinite per l'interessantissima presentazione credo che sia una grande occasione averla qui a Wave ti scrivono grazie grazie no mi ricollego infatti a questo discorso perché mi sembra che hai un pensiero molto chiaro perché tu dici appunto che indaghi il limite che i tuoi progetti non sono mai di un edificio ma sono sempre hanno sempre una forte connotazione urbana no e questo a me interessa moltissimo e mi piace moltissimo però effettivamente questo indaga molto lo spazio pubblico no e mi chiedevo visto che l'hai fatto l'hai anche detto durante la conferenza avete per esempio progettato un edificio durante il confinamento allora mi chiedevo se questa nuova condizione appunto di emergenza sanitaria ti ha dovuto fare ripensare a quello che in qualche modo avevi come paradigma di architettura o come di architettura per lo spazio pubblico sì io devo dire che non credo che questa situazione di pandemia coronavirus può da da una vanna trastoccare a modificare diciamo il punto di vista sull'architettura che ti interessa che si situa a interesse chiaro in architettura non se era coronavirus chi va a trastoccare queste a modificare questa trasformazione perché io penso che evidentemente coronavirus cosa che ha fatto ha stato mettere in evidenza e fare visibile i problemi che già esistevano non sono i problemi dei nuovi problemi la necessità di un spazio esterno per esempio che parliamo dell'abitazione la necessità di un spazio esterno la necessità dei spazi collettivi la necessità diciamo di alcuna maniera di cercare questi spazi di contatto di collegamento di incontro collettivo questo della mancanza di questi spazi che io i miei proietti ho voluto sempre risolvere per esempio tutte le social housing che ho fatto sempre tutte le abitazioni hanno sempre un spazio esterno perché abitazioni che sono molto piccole abitualmente normalmente sembra importantissimo di fare un'estensione sempre all'esterno un piccolo spazio all'esterno questo è un tema chiave di risolvere io portanto non credo che il coronavirus neanche nel tempo di pandemia va diciamo in alcuna maniera a modificare il plantamento diciamo dell'architettura neanche della città io penso che ovviamente l'espazio pubblico è un espazio che penso che il futuro della nostra città reside in questi tipi di spazi dove io penso che almeno dal mio punto di vista i miei progetti hanno cercato sempre di offrire non un oggetto isolato ma anche un luogo un luogo urbano questo per esempio che abbiamo fatto nel progetto questo che abbiamo perso questo è il Santander delle due edifici che si fragmenta con evidentemente una frammentazione con ressonanze urbane e che permettono offrire un nuovo spazio pubblico io penso che questo è stato sempre un po' diciamo l'idea del progetto e che continuerà evidentemente dopo questo tempo di pandemia penso che va a affettare in assoluto diciamo alla definizione neanche della città evidentemente ridurre la contaminazione la lotta contro il cambio climatico queste sono evidentemente nozioni di temi che il coronavirus ha messo più in evidenza e che evidentemente dobbiamo difendere lavorare non contro la natura lavorare con la natura fare questo rapporto intimo tra architettura e natura questo è molto importante sono questi elementi che ovviamente il coronavirus ha messo in evidenza che io penso che la città stanno muovendosi un po' in questa situazione trattando di eliminare il traffico ottenendo maggiori spazi pedonali introduziendo la natura alberi tutto questo diciamo alla città facendo una città più confortabile questo è un po' risultato del coronavirus però ovviamente no non credo che va a modificare il nostro uso gli argomenti di partenza dei nostri progetti chiaro chiarissimo grazie grazie a te poi mi sembra che non ci sono altre domande dal pubblico non so se qualcuno attendiamo ancora un minuto leggo un altro che dice davvero interessante grazie l'ultima riflessione poi chiudiamo un altro tema mi sembra dei tuoi progetti è il rapporto con l'antico è un rapporto un po' sì no perché credo che in Italia abbiamo lo stesso problema che spesso i progetti non passano perché esiste questa c'è un po' ormai si è creato questo restauro contro nuovo intervento e allora volevo sapere se così in Spagna e anche come trovi che sia uguale come in Italia avete più grado di libertà mi sembra che la tua idea è chiara l'hai detta prima cioè anche nella storia esiste sempre un rapporto di aggiunte non capisco perché ora non si debba fare più niente non possiamo toccare niente è pazzesco però se puoi dare anche perché credo che questo sia interessante per gli studenti perché all'interno poi del loro percorso avranno degli esami che si relazionano con l'antico quindi se puoi sì questo è ovviamente però io penso che oggi è un po' uguale in tutti i paesi Italia è sempre stato così questo lo conosco per me con le situazioni dei miei amici italiani però anche in Spagna è un po' lo stesso perché ovviamente abbiamo arrivato a un punto pazzesco evidentemente dove non si può toccare nulla e questo è un processo aistorico perché la città si è costruito sempre aggiungendo cose sulle cose e la città è così anche il monumento è così questo quando parlavo io quando parlavo del monumento che si costruisce lungo il tempo non risponde non il testimonio di una epoca sono strati diversi e perché adesso non possiamo diciamo contare con diciamo la portazione con il deposito di nostra cultura solo quando in tempi che non ha avuto cultura non ha avuto un deposito della cultura nel monumento nella città io penso che oggi questa città e soprattutto perché non stiamo parlando di un tema di conservazione stiamo parlando di un tema di riabilitazione e di un cambio di uso è un cambio di uso che ovviamente questo è un magazzino che si convierte in un museo un museo con una necessità che non sono la necessità del magazzino portanto io posso capire che evidentemente non solo in città e in monumenti che devono conservare il suo uso cattedrale chiesa eccetera sia un non si chiama un restauro conservativo si fa un restauro conservativo però per esempio in questo caso o nel caso di Trieste per esempio io penso che sono edifici che hanno servito con una struttura molto polivalente molto aperta in questo caso molto contemporanea perché è una struttura che permette consiente adeguarsi a un uso diverso invece oggi non si admite questa convivenza con l'architettura contemporanea penso che è un errore perché è molto importante diciamo intervenire in un edificio significa interpretare l'edificio e introdurre un'architettura che può convivere in una forma pacifica senza strivenzia senza violenza questo è molto importante anche io ho fatto ho lavorato anche un altro progetto qui a Sevilla che è il Palazzo di Sant'Elmo che è la siega del governo d'Andalusia e lì è introdotta un'architettura che a me non mi piace operare per contrasti diciamo lo nuovo se deve vedere che è nuovo è vecchio lo vecchio e il vecchio mi interessa andare avanti in una terza via che non il camuflaje storicista né la situazione di contrasto invece la via dell'analogia e mi interessa lavorare lì in questo territorio cercando di trovare un'architettura che può convivere con naturalezza senza crisi senza no non deve avere diciamo un un salto diciamo di non so neanche per il monumento neanche per le persone che lo solo deve avere diciamo una continuità per esempio in questo caso che succedeva è una l'architettura contemporanea con un linguaggio che permette interattuare diciamo con il linguaggio dell'istoria entrando diciamo in resonanza sui dei due linguaggi e alla fine essendo complementari questo è una sfida che non è facile evidentemente però è la diciamo in buona maniera il territorio dove mi interessa lavorare quando lavoriamo sull'istoria sul patrimonio costruito molto interessante grazie no grazie a te mi ha fatto veramente molto piacere chiacchierare con te di architettura e spero che anche i nostri studenti abbiano apprezzato e niente chiudiamo e speriamo di vederti l'anno prossimo magari qui a Venezia ti piacerebbe tantissimo speriamo speriamo bene che finisca questa situazione allora l'anno prossimo ci vediamo l'anno prossimo va bene speriamo ok buona giornata grazie ancora e buon lavoro grazie grazie a te ciao ciao arrivederci arrivederci ciao